E' uno spettacolo, è uno spettacolo, è uno spettacolo! Buonasera amici e amiche rossoneri e non rossoneri, ma sì anche non rossoneri ragazzi perché scopro sempre di più che ci sono molte persone che non tifano il nostro nominale che mi seguono, e lo si vede anche in numeri delle visualizzazioni rispetto agli iscritti. Ragazzuoli belli, ragazzuoli belle, vi abbraccio tutti! Il vostro Alex, cuore rossonero, unico, inimitabile e qui per darvi sempre informazioni belle e fresche. Stasera il video lo faccio presto perché ho un appuntamento dopo, devo uscire, sono le ore 17.52 lo ripeto, le notizie sono belle e fresche, buon venerdì sera di questo venerdì 18 febbraio 2022 ma probabilmente domani sera dopo la partita il video reaction lo farò ragazzi, lo farò. Penso di riuscire a tornare a casa a un orario decente per cui entro le 23.30, entro mezzanotte di riuscire a fare il video reaction. E dove vedrò io la partita? Su Dazon, l'applicazione Dazon che ho installata nel mio iPhone, puoi anche averla installata nel tuo Android, telefono con sistema operativo Android. Ragazzi, guardate che voglio sottolineare questa cosa perché il mondo è veramente cambiato perché fino all'altro ieri un'app come quella di Dazon era inimmaginabile. Quando qualcuno disse diamo insomma a Dazon la licenza per trasmettere la Serie A e poi ci sono stati tutti i disguidi, tutte le nostre incavolature che ci sono state, giustamente, era comunque per iniziare un nuovo corso tecnologico in questo paese. In questo paese Italia che io voglio un enorme bene ma che è sempre immobile. Allora, prima andiamo per i gradi e partiamo con le notizie sul nostro Milan. Siamo pronti per domani contro la Salernitana alle ore 20.45. Lo ripeto, io sul mio telefono vedrò la partita su Dazon, con l'app di Dazon. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Ma secondo voi io mi devo preoccupare della Salernitana? No, non mi preoccupo, anche se ha cambiato l'allenatore. Perché se non mi sbaglio ce l'è Nicolato. Per cui, ragazzi, ma non mi interessa. Non mi interessa che abbia cambiato l'allenatore piuttosto che. Noi siamo il Milan, noi abbiamo dei ragazzi eccezionali e forti, giovani e forti. E giocano benissimo, per cui di che cosa mi devo preoccupare? Tomori gioca da subito, Pioli indeciso se far partire subito Brian Diaz o che sì, al suo posto. Vedremo come sarà la storia, ragazzi. Ma noi andiamo alla grande, affrontiamo la Salernitana e ci portiamo a casa questa partita. Fiducia assoluta, questo manco a dirlo, in tutti i nostri ragazzi, questo volevo dire. E proseguiamo così, ragazzi, proseguiamo così. Altre notizie della giornata. Il valore della squadra del nostro Milan sta aumentando sempre di più. Abbiamo comprato Mike Magnan con i bonus compresi per 15 milioni di euro, adesso ne vale 45. Tonali vale 50 milioni di euro e andiamo avanti così. Ragazzi, è uno spettacolo. Però voglio parlarvi dell'argomento, della copertina di questo video. Di questo, seppur breve video, ma vi voglio parlare. Sono sempre le ore 17 e 55. Io penso che il mio paese sia amministrato male, ma questa cosa la penso da sempre e molti di voi la pensano. Io parlo della politica, ma non è per dare sempre la colpa alla politica, ma in parte la colpa ce l'abbiamo anche noi italiani. Noi italiani siamo brava gente, così viene detto di noi, brava gente. Ma siamo veramente brava gente. Noi siamo veramente un grande popolo. Abbiamo solo un piccolo difetto, che ci manteniamo sedentari sulle nostre idee. Cioè noi sposiamo un'idea, rimaniamo tradizionalisti per sempre. Più di due anni fa, anzi, scusate, tre anni fa, qualcosa in più di tre anni fa, quando Elliot subentrò al cinese, i tifosi milanisti urlarono allo scandalo. Questi prendono il Milan per spolparlo e rivendolo a quattro soldi. Cioè ci faranno fallire. Vero che alcuni milanisti dicevano così, adesso invece tutti innamorati di Elliot. Addirittura non vogliono vedere neanche uno sceico a capo del Milan. Però ragazzi, questo è come le cose cambiano nel tempo. Una persona è come un selvaggio, come uno che vive nella giungla, per fare un esempio, non so, ammazzonica, africana o equatoriale oppure indonesiana. Ed è praticamente lì che non sa dove sta, è talmente selvaggio che è diffidente verso quello che non conosce. Poi passa il tempo, capisce le cose e capisce cosa sta succedendo. Io quando aprì il mio primo canale, che ripeto è stato cancellato, i primi mesi abbi a lottare con una marea di milanisti, che tanti si iscrissero perché persone intelligenti da subito, che hanno capito Elliot dove ci stava portando, dove stava andando. Tanti altri mi offesero pesantemente. Poi adesso questi qui voglio capire dove sono andati a finire perché non li vedo più. Comunque questa è l'evoluzione dei tempi. E qui vi faccio un aneddoto ricollegandomi al fatto che noi italiani siamo sedentari sui nostri dietro apportradizionalisti. Abbiamo sempre pensato, fino all'altro ieri, che i nostri politici ci potevano salvare le chiappe. E invece le chiappe non ce le salvano. Dal 1 gennaio 2024 le licenze per le spiagge, praticamente per le concessioni delle spiagge, sono completamente libere. Questo vuol dire che tutti i proprietari balneari, che in questo momento sono proprietari delle loro licenze balneari, scusate il gioco di parole, devono ripresentarsi per i cosiddetti concorsi per acquistare la concessione delle spiagge. Non delle loro spiagge perché non lo saranno più, giusto? E fin qui ci siamo. Ma udite, undite e indovinello cosa succede. I fondi di investimento si prenderanno le spiagge italiane. Ma non tutte le spiagge di tutta l'Italia. Le spiagge che fattureranno di più, quelle della riviera romagnola, veneta e quant'altro. Ragazzi, i fondi di investimento che arriveranno saranno fondi americani. Tutti cugini e parenti di Elliot. Perché vi spiego questo? Perché, ritornando al discorso iniziale, noi italiani siamo un popolo meraviglioso, che è vero, e io l'ho sempre pensato questo. Perché io ho girato mezzo mondo. Io sono stato negli Stati Uniti, East Coast, West Coast, Hawaii, Thailandia e Cambogia, Pukai Island, Nord Africa, Africa, Europa, dappertutto. Io ho visto veramente tanti posti, ho viaggiato un casino, speso bene questi soldi per viaggiare. Però, ragazzi, il problema rimane. Siamo brava gente, ma siamo sedentari e tradizionalisti nelle nostre idee. Non sappiamo sviluppare il potenziale del nostro paese Italia e arrivano gli altri dall'estero, dagli Stati Uniti, piuttosto che, per sfruttare le nostre risorse. Praticamente, sulle spiagge della Riviera Romagnola a Veneta, piuttosto che, noi italiani saremo ospiti degli padroni stranieri. Ma non è per fare una critica, perché quelli stranieri che prenderanno le concessioni delle spiagge, sapete cosa succederà? Le svilupperanno come mai nessuno prima ha fatto. Io non so se qualcuno di voi è stato a Mykonos o a Ibiza. Io ho fatto un certo periodo della mia vita a stare a Ibiza, in posti anche, tra altre cose, molto belli. Non so se avete presente un certo Ushuaia, Ushuaia d'Ibiza, che posto è? Io sono stato anche a Mykonos, due volte. A Mykonos nella mia vita, in totale, ho passato un mese e mezzo di vacanze. Ho fatto due settimane la prima e qualcosa in più di due settimane la seconda. Mykonos, sono stato in due posti bellissimi. Sono stato uno verso Parnamos, poi un altro nella Ciora di Mykonos. Bene, allora, Ibiza, bel posto, ma non saranno mai le nostre isole italiane. Mykonos, bel posto, ma non saranno mai le nostre isole italiane. Però c'è un piccolo fattore. Ibiza fattura, non vi dico quanto rispetto alle nostre isole italiane. E Mykonos, che è una piccolissima isola, altrettanto. Poi vai a scoprire, mettono la musica in spiaggia. Ok, d'accordo che io sono d'accordo con i residenti italiani delle località balneari che non vogliono rotture di balle. Ma gli altri sanno sviluppare meglio il turismo e per cui anche fatturare. Le aree dove la gente si diverte si possono anche circoscrivere. Perché tutto questo ragionamento, tutto questo mappazzone, come dice lo chef Bruno Barbieri? Perché oggi l'Atalanta è stata venduta a un fondo di investimento americano quotato la borsa. Ah, so già che qualcuno di voi scriverà o ha scritto, perché ha letto qualche trafiletto da qualche parte, qualche sedicente giornalista, che non è vero che il fondo americano ha smentito. No, balle, che per Cassi doveva vendere l'Atalanta non è da oggi, è già da un pezzo. Io di fatti ve ne parlai nel primo canale velocemente che l'Atalanta non spendeva più soldini, come mai, dissi, come mai, proprio per questo motivo. Perché per Cassi doveva massimizzare e contenere le spese per poi vendere. La cifra di vendita è da 350 milioni di euro. Ricordo che tre anni fa tanti in Italia italiani sputarono addosso al nostro Milan, siete stati svenduti a un fondo di investimento. Siamo da due anni secondi in classifica, abbiamo, praticamente, Elliot ha azzerato i debiti, la perda di esercizio sta crollando vertiginosamente, abbiamo un fatturato che sta aumentando esponenzialmente, una squadra splendida. Gli altri sanno fare meglio il lavoro degli italiani. E non sto parlando di know-how di grandi aziende italiane e di grandi piccoli e medi imprenditori italiani. Sto dicendo di quello che è, tra virgolette, il tradimento della politica, prima di tutto, il tradimento della politica italiana nei confronti dell'Italia e degli italiani. E poi anche degli italiani stessi, che noi siamo abituati a pensarla in modo tradizionale. Tra altre cose adesso esploderà il bubbone della bomba atomica dei licenziamenti nel settore automobilistico. causa, perché gli italiani, ma tutto il mondo vuole il rinnovamento verde, il cosiddetto rinnovamento verde, insomma quello che è, avete già capito, per passare le auto elettriche e qui ne vedremo anche qui delle belle. Non ho fatto il gufo in questo video, vi ho solo spiegato qual è la situazione. La situazione è spettacolare, è uno spettacolo sempre, il nostro Milan è eccezionale e sarà una potenza. Però vi avviso anche di una cosa, perché voi i video dovete vederli fino alla fine, perché io dico tante cose, ma mai cazzate dette tanto per dire. Se la prova negli Stati Uniti durante la pausa dei mondiali di calcio in Qatar, cioè a Miami della Serie A che si trasferisce a Miami, andrà bene. Ve lo dico già da adesso, il nostro campionato per una stagione intera non verrà più disputato in Italia. Se le cose a Miami in Florida vanno bene, tra altre cose posto bellissimo che conosco. Ma il nostro campionato, vedrete che lo si farà due o tre mesi all'anno negli Stati Uniti. Amici e amiche, è uno spettacolo. Tutto il mondo sta cambiando, se poi adesso arriva la guerra. Tutto il mondo sta cambiando, ve lo dovete ficcare nella zucca. Ma non ho detto che è un disastro. Io vi ho fatto capire un'altra cosa. Sarà meglio di quello che tradizionalmente voi siete abituati a pensare. Ciao.